Gelato al cioccolato Si, gelato al cioccolato, dai, riacidissima La persona è bellissima e ha fatto un grande successo Ci sarà bellissima Quindi, punto, gelato al cioccolato, andiamo E' bellissimo, e' bellissimo, e' bellissimo E' bellissimo, e' bellissimo, e' bellissimo E' bellissimo, e' bellissimo E' bellissimo E' bellissimo faccia ci cor La cassa di Teatro non lo aveva, non sei datò il cioccolato, non sono colarato, non sei datò il cioccolato, non si vedeva il cioccolato, non si vedeva il cioccolato. Non vedete quasi aście, vedete un bacino, vedete così qua che grazie a dark, come è tempo in presa, vediamo il pubblico cosa ha deciso. che voi che siete di dietro siete pronti? Che stiamo facendo? Che stiamo facendo? I tecnici! Non mi mettere dietro, non mi mettere, grazie. Perfetto. Allora, ci siamo, ci stiamo a andare avanti. Pubblico, decidete voi se ci sono. C'è un po' di applausi oppure i fischi. 3, 2, 1! Se mi scassate, se mi state troppo bravi, quindi accomodatevi, non è il giorno per voi, e poi accomodatevi, non è il giorno per voi. Adesso è diventamente la Firenze. Un applauso per la nostra lista!